Mezzanotte 23, buonasera, benvenuti ad Omnibus Notte che stasera arriva al termine di una giornata che è stata lunghissima per quel che riguarda la Lombardia ma che si è giocata sostanzialmente che vi presento. Buonasera a Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, buonasera a Benedetto Della Vedova, presidente dei deputati di Futura e Libertà per l'Italia, buonasera a Massimiliano Fedriga, vicepresidente dei deputati della Lega Nord. A Milano credo che ci sia già Daniela Santanchè, popolo della libertà, sta arrivando in questi istanti. Allora, partiamo subito. Fedriga, una buona conclusione per quello che le consta l'accordo di Milano. Non piace naturalmente alle opposizioni, anzi, per la verità, mentre Maroni dice che non si voterà, non ha mai parlato di elezioni anticipate, Salvini dice sì, ma probabilmente a primavera poi si finirà le urne. Beh, Maroni non ha detto che non si faranno elezioni anticipate, Maroni ha detto adesso vediamo quale giunta proporrà Formigoni e vediamo quale azione concreta farà questa giunta. Quindi è chiaro che la situazione è cambiata notevolmente e mi scusi la metafora un po' dura, però Formigoni vive in questo momento con una pistola puntata della Lega. Noi adesso staremo molto attenti su ogni mossa. Lei dice così, però i giornali titolano la Lega salva Formigoni, ecco, il quotidiano romano è un messaggero. I giornali titolano moltissime cose in questi anni. Formigoni salvato dalla Lega, questa è l'unità e ci può stare. Io credo di più a quanto è emerso dall'incontro di oggi, ma soprattutto quanto emergerà dal Consiglio federale che esisterà sabato mattina. Noi vogliamo, il vincolo che abbiamo detto è azioni concrete subito per la Lombardia. Se questo non avviene non riteniamo alcun tipo di patto elettorale o quant'altro superiore a questa imposizione che abbiamo voluto dare. Vista la situazione che si è venuta a creare, un punto e una presa di posizione molto forte la riteniamo indispensabile e per questo anche il segretario federale Maroni ha puntato e l'ha detto chiaramente oggi. Buonasera Daniela, parto però da Fedriga in questo caso. Fedriga, oggi il vertice è stato infinito, in due tranche e alla fine è uscita la fumata bianca, giunta azzerata e ridimensionata che dice lei sarà verificata nei nomi, nella qualità dalla Lega. Quanto ha pesato l'idea però che il popolo della libertà ha detto immediatamente se cade la Lombardia cadono anche le altre giunte, quella guida leghista nel nord, cioè Piemonte e Veneto? Niente? Quello penso niente perché gli stessi esponenti del PDL in Veneto, il vicepresidente della regione Veneto del PDL ha detto il Veneto non si tocca e così è venuto in Piemonte. Perché è chiaro che se dobbiamo dare un buon servizio ai cittadini io penso che le giunte sia del Veneto che del Piemonte stiano lavorando molto bene non si può mettere sul piatto la buona amministrazione con l'interesse partitico o di alleanze. Detto questo ringrazio anche Boccia per i preziosi consigli e questa capacità di prevedere il futuro e di sapere le alleanze degli altri partiti. Io non mi piace giocare a il più cattivo o il peggiore però voglio ricordare a Boccia se anche io posso dargli un consiglio come a lui che esistono un presidente della sua regione che è appoggiato dal PD che se non erro è Nicky Vendola che è indagato su più fronti, diversi assessori che si sono dimessi quindi io credo che sia nella buona politica ma nell'interesse di tutti e di cittadini usare la stessa chiarezza, lo stesso metro per tutti. Io penso che se nessuno del PD ha chiesto per esempio l'azzeramento dell'Aggiunta Vendola ma è grado che il presidente sia in notevoli difficoltà e non solo lui e io penso che quindi non credo che possa esistere il partito perfetto o il partito dove tutti sono controllati e tutti trasparenti credo però che il partito onesto sia quello che reagisce immediatamente quando c'è qualcosa che non va. Il centro-sinistra della vedova compie un'operazione di propaganda elettorale che non è da lui quando dice dentro la sinistra ci sta chi vuol rottamare l'agenda Monti perché dentro il centro-sinistra c'è un dibattito su quello che è successo Guarda che è un complimento Vista dalla Lega sì, vista dalla Lega che deve allearsi con il PDL di Sant'Anche che come è noto ha ricandidato Monti non più di tre giorni fa, quattro giorni fa Arrivo subito della vedova, volevo sentire da Fedriga Oggi Monti poco fa parlando a Bruxelles ha detto cose anche sui nostri conti Con la legge di stabilità l'Italia avrà una delle migliori posizioni di bilancio nella zona dell'euro come rilevato dal Fondo Monetario Internazionale Insomma il Premier alla fine promuove l'attività del suo governo Se l'auto promuove è facilissimo Le aggiungo un'altra frase allora, sempre di Monti Abbiamo pesato in modo che non ha precedenti sui cittadini con le riforme fatte, ha detto Ma siamo più popolari dei partiti che queste cose non hanno fatto E questo è oggettivo, è rilevato dai sondaggi Anche qui avrei qualche dubbio Allora in prima cosa voglio ricordare che i dati economici del Paese rilevano che abbiamo il più alto debito pubblico nei primi mesi dell'anno sotto il governo Monti Voglio ricordare che tutti i dati, dalle disoccupazioni al potere d'acquisto Ai redditi delle famiglie sono crollati e le imprese chiudono Io mi domando dov'è il successo di questo governo Nella manovra di stabilità stanno nuovamente prendendo in giro gli italiani dicendo che abbassano l'IRPEF ma aumentano di un punto l'IVA Vengono penalizzate le fasce più deboli Viene messa l'IRPEF addirittura per gli invalidi e i grandi invalidi di guerra Quindi una misura iniqua che colpisce i più deboli Le dico, ho fatto proprio ieri un incontro col Ministro Fornero insieme ai capigruppo di maggioranza della Commissione Lavoro nella quale è venuto fuori nella sostanza che hanno trovato per gli esodati 130 milioni No, hanno trovato 100 milioni nell'ultimo fondo non sono stavate a 180 Le dico soltanto che per coprire soltanto tutti i casi allarmanti di allarme sociale che ha creato lo stesso Ministro Fornero con la riforma delle pensioni da qui al 2015, quindi non coprendo nemmeno tutti gli anni servirebbero 5 miliardi e 200 milioni Quindi mi domando con quale coraggio questo Ministro e questo Governo diano al contempo 4 miliardi a Monte Paschi di Siena 900 milioni per il tappato di stabilità della Sicilia e non trovano i soldi per gli esodati Mi domando questo successo, Monti dove lo vede? Per me è un affronto a tutti quei bei proclami che aveva detto il Presidente del Consiglio quando si è insediato Te la vedo Ma questa è la realtà Posso solo darti una risposta? Una battuta perché mi devo fermare Sì, soltanto l'aumento dell'IVA porterà le casse dello Stato a 6,5 miliardi La diminuzione dell'IRTEF 5 miliardi Quindi vuol dire che questa è una misura che il Governo incasterà di più Seconda cosa solo, nel DEF a chiusura del Governo precedente era previsto un calo nel 2013 di meno 1,2% Adesso nel DEF 2,4%, raddoppiato con il Governo Ci fermiamo un istante Se le risorse disponibili sono solo 5 miliardi come ricordava ora Federica tanto vale aumentare le detrazioni per le famiglie e per i redditi più bassi Questa è la discussione che vorremmo fare in Parlamento e mi auguro che ci sia un confronto franco Federica, Boccia è stato chiaro su chi deve beneficiare di alcune cose Boccia si dimentica un po' di quello che ha votato in passato Perché io ricordo, lui dice è vero, io condivido le fasce più deboli devono essere tutelate Io ricordo Boccia che non più dello scorso inverno ha votato il blocco delle indicizzazioni ovvero l'adeguamento delle pensioni al costo della vita per chi prende 1.100 euro al mese L'ha votata con la riforma con i Salva Italia Siamo mal informati Siamo mal informati Non avete fatto il blocco delle indicizzazioni per tre volte la minima che il netto è 1.100 euro al mese Siamo mal informati Ma le abbiamo salvate quelle fino a tre volte la minima Vorrei ricordatelo Guarda che se vai sui provvedimenti approvati Sei molto confuso Perché prima era fino a tre Andiamo nel tecnicismo Andiamo nel tecnicismo Ti assicuro che l'ho seguito in Commissione di Lavoro Prima era fatta fasce Adesso chi prende 1.100 euro al mese Al di là delle polemiche Dove troviamo il denaro che serve per? Sa dove lo troviamo? Noi ogni anno partono centinaia di miliardi Di miliardi di euro da nord verso sud Io dico che non è accettabile Che ci siano 26.000 guardi forestali in Sicilia Diciamo che non è accettabile Che ci siano ospedali in Calabria Con 20 pazienti e 100 dipendenti Diciamo che non è accettabile Che vengano utilizzati i fondi FAS Che servirebbero per lo sviluppo del mezzogiorno Per la spesa corrente Altre guardi forestali in Campania Queste sono cose non accettabili Se noi non andiamo a decidere in questi sprechi Io mi domando soprattutto i gruppi di maggioranza Che appoggiano Monti I fatti li ha utilizzati bene Perché li ha utilizzati per gli ammortizzatori sociali Per gli allevatori Almeno utilizzati per cose utili Ma se io vorrei sapere con quale coraggio Votano, come dicevo Il blocco delle leggezioni L'aumento a 67 anni Può arrivare a 70 delle pensioni 300.000 isodati E dopo lasciano questi sprechi Oltretutto, devo dire Fortunatamente In regioni che noi non amministriamo E non siamo interessati a farlo Al contempo Si continuano a far pagare delle tasse Assolutamente Che non ci rendono competitivi Con gli altri paesi europei Il resto europeo E le nostre imprese Allora, della vedova Oggi Grilli ha Allora, l'1.18 di nuovo in studio Allora, Fedriga L'altra notizia del giorno È questo primo accordo In commissione al Senato Sulla legge elettorale La bozza malan Quella del PDL Che voi avete Alla quale voi vi siete uniti Cosa sono? Prove tecniche Come diceva all'inizio Che era boccia Prove tecniche di alleanza C'è di più Legge che prevede un sistema Con una soglia di sbarramento Che dovrebbe favorire Salvaguardare la Lega Si dice Per le regioni del Nord Premio di maggioranza Al 12,5% A voi piace? Va bene? È questa la legge Con la quale andremo a votare? Fine del Porcellum? Io credo che ci saranno Altre modifiche a questa proposta Però Siamo presi la responsabilità Di smuovere la situazione Perché altrimenti Rischiavamo di rimanere Assolutamente bloccati Poi le dico altrettanto Sinceramente Che la legge elettorale Non mi appassiona Quando abbiamo parlato Di temi interessanti Come lei ci ha fatto parlare Questa sera Credo che i cittadini Infatti abbiamo anche un sondaggio Al 9% dei cittadini Interessa la legge elettorale Noi dobbiamo cercare Di essere i più trasparenti possibili Offrire i migliori candidati possibili E se mi permette Glielo chiesto prima 30 secondi Soltanto perché parliamo Sempre male della politica Però per una volta Un consigliere Sono orgoglioso Di essere leghista Anche perché c'è gente Come questa Un andranghetista Definisce la Lega Che la Lega È uno schifo di partito E nelle intercettazioni dice Ma tu l'hai capito Che quell'idiota della Lega Per 10.000 euro Che non mi ha voluto dare Ha perso le elezioni Questo oggettivamente Non perché deveva o d'altro Ma perlomeno una volta Si parli bene della politica Perché ci sono persone E sono la maggioranza oneste Che dicono no A questo schifo E penso che vale per tutti Non solo perché della Lega Ci saranno moltissimi Anzi la maggioranza Sono dappertutto Io oggi ho visto Queste intercettazioni Non solo in Lega Grazie ai nostri ospiti Adesso c'è il telegiornale sportivo Poi prossima fermata E domani mattina Cioè fra poco Alle 7 Omnibus Alle 8 Il dibattito con Alessandra Saldoni Grazie Noi ci vediamo domani Ciao